Napoli, 14 agosto 1946. Mio carissimo Lucio, sono stato un poco al mare. Trenta giorni di pancia al sole mi hanno rimesso in piedi, perciò non ti ho scritto prima. Adesso mi sento meglio, sono diventato nero nero e prima di riprendere contatto con me stesso e con il teatro penso a te, mio fraterno Lucio. Il posto d'onore e l'eleganza con cui hai voluto presentare nell'ultimo numero di dramma il mio lavoro, questi fantasmi, mi ha veramente commosso. Difficilmente saprò dimostrarti la mia riconoscenza. Perché non fai una scappatina a Napoli? Se decidi, ricordati che c'è un napoletano che ti aspetta e che se non ha la possibilità di ospitarti sontuosamente in casa sua come tu hai ospitato i suoi fantasmi in casa tua saprà in compenso stringerti fra le braccia con cuore fraterno. Conta sempre sulla mia amicizia e vogliami tanto bene. Scrivimi Adoro sentirti parlare Tuo Edoardo Signori e signori, buonasera e benvenuti a questa festa questa bellissima festa la giornata mondiale del teatro e sono i 50 anni, un compleanno, i 50 anni del Centro Studi del Teatro Stabile di Torino. Vedrete alcuni momenti... Eh sì, un grande applauso! Stasera ci saranno dei momenti teatrali, delle clip video e tanti, tantissimi ospiti. Ringraziamo la Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Teatro Nazionale e io scendo in platea per un rapidissimo saluto. Tra l'altro vedo il Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte qui che invito con me e un saluto dal padrone di casa, ovviamente, il Dottor Filippo Fonsati. Buonasera a tutti, benvenuti e benvenuti. Mi fa molto piacere vedere i volti di tanti amiche e tanti amici di questo Centro Studi che è un po' il cuore pulsante, le radici storiche del nostro teatro. Come sapete è un teatro stabile a tante funzioni la più eclatante è quella di aprire il sipario tutte le sere per incontrare centinaia di spettatori la più forse intima e riservata è quella di custodire proprio qua in questo corpo di fabbrica, qua accanto un patrimonio inestimabile. Come sapete, tra queste funzioni c'è pure quella di gestire un'agenzia formativa che dal 1991 ha formato generazioni di attori molti dei quali sono qui in sala alcuni dei quali sono sul palcoscenico con ruoli diversi di testimoni della loro professione come Leonardo Lidi e Marco Lorenzi che hanno fatto una lunga carriera professionale partendo proprio dalle carte studiate al Centro Studi altri sono gli allievi dell'ultimo corso che ci leggeranno alcuni brani significativi della storia del nostro teatro. Il Centro Studi compie 50 anni nel 2009 è stato riconosciuto con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri come istituto di ricerca e non possiamo ancora annunciarlo ufficialmente ma è in corso un iter in Senato per l'aggiornamento dell'elenco degli istituti di cultura e i relativi finanziamenti e posso dirvi che ci sono ottime possibilità che il Centro Studi riceva un contributo strutturale da parte dello Stato italiano a riconoscere la rilevanza delle funzioni. Chiudo salutando anche i rappresentanti dell'Università degli Studi di Torino a partire dal decano, professore Alonge che ha formato generazioni di operatori e di artisti, di studiosi tra cui me, perché pure io diedi un esame col professore mi onoro di aver dato un esame col professore per sottolineare quanto la relazione strutturale e gli accordi con l'Università ci garantiscono quel quarto di nobiltà accademica che ci posizionano in maniera ancora più forte tra chi fa ricerca sul campo nelle discipline dello spettacolo e del teatro. Auguro a tutte e a tutti una buona serata e passo la parola al Presidente del Consiglio regionale che è venuto a porgere un saluto da parte di uno dei nostri soci fondatori. Grazie. Grazie direttore. A lei Presidente. Grazie. Io ringrazio tutti gli amici e spettatori che sono qui ringrazio anche e saluto la collega Sara Zambaia che è qua con noi porto i saluti del Consiglio regionale ma del Governatore Cirio in questo momento di festa di festeggiamenti per i 50 anni del Centro di Studi del Teatro Stabile un'eccellenza culturale del nostro territorio una biblioteca e non solo tra le principali e più importanti d'Italia nel conservare testi e memorie teatrali proprio per questo stiamo cercando ed è intenzione della Regione del Consiglio regionale di istituire e attivare un protocollo d'intesa tra il Consiglio regionale e il Teatro Stabile anche perché non tutti sanno che la Regione Piemonte ha una biblioteca con un patrimonio immenso patrimonio librario molto molto importante sicuramente c'è da come si sta facendo farlo rivalutare anche perché gli stiamo dando una nuova sede proprio nella riscrutturazione di Palazzo Lascaris nella sede dell'ex Banco di Sicilia perciò ci sarà nel futuro la possibilità di avere un ulteriore punto di riferimento culturale nell'interno del panorama torinese abbiamo intenzione come vi dicevo di valorizzare al massimo i gioielli che abbiamo sul nostro territorio tutte le volte che entro in questa sala in questo teatro mi affascina e voglio dire c'è veramente lasciarci il cuore ho già chiesto al Dottor Fonsatti se eventualmente ci potesse essere la possibilità di svolgere un Consiglio regionale in questa sala per la sua solennità per la sua importanza che è la storia del nostro territorio perciò abbiamo necessità di mantenere viva, alta la nostra cultura la cultura nella lingua italiana nell'interno del teatro e anche soprattutto anche qua a Torino in lingua piemontese perciò in tutti gli eventi che abbiamo istituito come Regione come Consiglio regionale assieme anche a qui il regista Giulio Graglia abbiamo sicuramente operato nell'interesse della cultura più ampio di ampio respiro io ringrazio ulteriormente ricordo a tutti che quest'anno festeggiamo come Regione Piemonte i 600 anni del Grappò della nostra bandiera una bandiera che sta a unito in questi 600 anni tutte le popolazioni e culture del nostro territorio a livello istituzionale i 1180 comuni e anche gli enti come qua al Teatro Stabile perciò al Teatro Gobetti dobbiamo fare e nel prossimo momento nel prossimo futuro in autunno faremo sicuramente un evento di commemorazione alla bandiera e quello che poi verrà in futuro grazie ancora del lavoro e dell'impegno che ci state mettendo perché come dicendo diceva poc'anzi e lo dice soprattutto il nostro governatore Cirio le volte ci vogliono delle belle idee delle buone idee ma ci vogliono anche i soldi e se arrivano ulteriori soldi dallo Stato noi le prendiamo di buon grado grazie e buon lavoro e buona Pasqua a tutti grazie Presidente e grazie Direttore e possiamo dare via a questa serata il Centro Studi nasce appunto nel 1974 lì inizia la cavalcata del Centro Studi e abbiamo invitato degli amici degli amici che passeranno con noi la serata degli ospiti d'eccellenza artisti docenti universitari appassionati giornalisti e via in ordine alfabetico rigorosamente Pietro Crivellaro Thea della Valle Leonardo Lidi Marco Lorenzi Leonardo Mancini Federica Mazzocchi Anna Peiron Bruno Quaranta e Maura Sesia abbiamo preparato un filmato per raccontare questo inizio un inizio straordinario perché Lucio Ridenti dà questo fondo da lì inizia tutto lui aveva iniziato nel 25 questa rivista mensile Dramma che dirige fino al 68 quindi veramente una lunga storia e partiamo da questa storia con queste immagini c'è un signore che nel 73 viene assunto come nell'ufficio stampa del Teatro Stabile e due anni dopo arriva proprio al Centro Studi questo signore è Pietro Crivellaro come erano quegli anni Pietro? Sono stati anni anche difficili di transizione la direzione Trionfo col presidente Picchioni e Nuccio Messina direttore organizzativo è il vertice che ha fondato ha voluto il Centro Studi io sono entrato attraverso il Festival di Chieri mi occupavo dell'organizzazione di questo a Chieri e sono stato cooptato al Teatro Stabile Ufficio Stampa ma nel 75 quel vertice è completamente cambiato decapitato per così dire scacciato perché sale al potere la giunta di Diego Novelli eccetera io vengo mandato per così dire in castigo al Centro Studi che era nato due anni prima un bel castigo e in qualche beh a quel momento non era così chiaro non era così chiaro per cui ho capito di dovermi dar da fare a dargli un obiettivo e il primo obiettivo che ho intuito è stato quello di mettere a disposizione una risorsa di documentazione sul teatro rappresentato che era garantita dall'archivio del dramma e dalla biblioteca di Ridenti all'università stavano nascendo gli insegnamenti della storia del teatro che si emancipavano dalla storia della letteratura hai detto quella bellissima frase tra il Centro Studi e l'università ecco è stato il binomio che è diventato il faro della nostra attività credo fino ad oggi ed è questo che mi dà una grande soddisfazione grazie e torniamo su di te avete visto addirittura Febo Mari c'è anche l'archivio di Febo Mari grande attore del cinema muto questo per dire la vastità dell'archivio che dopo prenderà i fondi di Rossi di Blandi di Guerrieri di Castri di Messina di Guido Deveico Bonino insomma di tantissimi che doneranno i propri scritti le proprie opere i libri al Centro Studi ma adesso mi piacerebbe iniziare questo percorso perché il percorso inizia proprio in quell'anno c'è un ex direttore del Teatro Stabile di direzione collegiale tra il 68 e il 70 questo signore e lo vedete qui che adesso arriverà questo ovviamente è Macario in una straordinaria testimonianza di cosa è stato il Centro Studi proprio all'inizio anche con la documentazione fotografica questo signore si chiama Gian Renzo Morteo Gian Renzo Morteo che è stato l'inventore in qualche modo l'iniziatore di tutto quello che poi è diventato il Centro Studi intellettuale professore universitario e noi per omaggiarlo anche se il Teatro Stabile non ha mai messo in scena questa commedia La Cantatrice Calva vogliamo ricordarlo perché è stato il primo traduttore in italiano della Cantatrice Calva la prima edizione a Milano nel 1956 ma a Torino nel ridotto del Romano il Teatro delle Dieci nel 1958 la mette in scena buonasera vi presento il signor Smith la signora Smith guarda un po' c'è scritto che Bobby Watson è morto Dio mio poveretto quando è morto? ma perché ti stupisci lo sai benissimo è morto due anni fa siamo andati ai suoi funerali ricordi un anno e mezzo fa ma certo che me ne ricordo me ne sono ricordata subito ma non capisco perché tu ti sia stupito vedendolo sul giornale ma sul giornale non c'è sono già tre anni che si è parlato del suo decesso me ne sono ricordato per associazione di idee peccato era così ben conservato era il più bel cadavere di Gran Bretagna non dimostrava la sua età povero Bobby erano quattro anni che era morto ed era ancora caldo un vero cadavere vivente e com'era allegro povero Bobby vuoi dire povero Bobby? no penso a sua moglie lei si chiamava come lui Bobby Bobby Watson siccome avevano lo stesso nome non si riusciva a distinguerli l'uno dall'altra quando li si vedeva assieme è stato solo dopo la morte di lui che si è potuto sapere con precisione chi fosse l'una e chi fosse l'altra tuttavia ancora oggi c'è gente che la scambia per il morte e le fa le condoglianze tu la conosci? ma non l'ho vista che una volta per caso al funerale di Bobby io non l'ho mai vista è bella ha tratti regolari eppure non si può dire che sia bella troppo alta e troppo massiccia i suoi tratti non sono regolari eppure la si potrebbe dire bella è un po' troppo piccola e magra è insegnante di canto e quando pensano di sposarsi quei due? la primavera prossima più tardi bisognerà per forza andare al matrimonio e bisognerà anche fare un regalo mi domando quale? perché non gli regaliamo uno dei sette piatti d'argento che ci hanno dato per il nostro matrimonio e che non ci sono mai serviti a nulla? è così triste per lei essere rimasta vedova ma così giovane per fortuna non hanno figli non ci sarebbe mancato che questo figli povera donna che cosa avrebbe fatto? è ancora giovane può benissimo risposarsi il lutto le sta così bene ma chi si prenderà a cura dei figli? lo sai che hanno un bambino e una bambina come si chiamano? Bobby e Bobby come i loro genitori lo zio di Bobby Watson il vecchio Bobby Watson è ricco e vuole molto bene al bambino potrebbe incaricarsi lui dell'educazione di Bobby sarebbe logico e la zia di Bobby Watson la vecchia Bobby Watson potrebbe benissimo incaricarsi per parte sua dell'educazione di Bobby Watson la figlia di Bobby Watson così la mamma Bobby Watson Bobby potrebbe riposarsi ha qualcuno in vista? sì un cugino di Bobby Watson chi? Bobby Watson? di quale Bobby Watson parli? di Bobby Watson il figlio del vecchio Bobby Watson l'altro zio di Bobby Watson il morto no non è quello è un altro è il figlio della vecchia Bobby Watson e la zia di Bobby Watson il morto vuoi dire Bobby Watson il commesso viaggiatore? tutti i Bobby Watson sono commessi viaggiatori che mestieraccio eppure si guadagna così bene quando non c'è concorrenza e quando c'è concorrenza? il martedì il giovedì e il martedì ah tre giorni e la settimana? e che fa Bobby Watson durante quel tempo? si riposa, dorme ma perché non lavora durante quei tre giorni se non c'è concorrenza? non posso sapere tutto fai delle domande stupide lo dici per umiliarmi? sai bene che non è vero gli uomini sono tutti uguali rimanete lì tutta la giornata sigaretta in bocca oppure vi incipriate se vi dipingete le labbra cinquanta volte al giorno quando non bevete a più non posso ma che cosa diresti se vedessi gli uomini fare come le donne fumare tutta la giornata incipriarsi impiastricciarsi di rosso le labbra e bere whisky quanto a me me ne infischio ma se parli così per farmi rabbia allora non mi va questo genere di scherzi lo sai? oh mia pollastrella arrosto perché vomiti fuoco ma lo sai che parlo per scherzare che buffa coppia di vecchi innamorati che siamo noi due vieni spegniamo la luce e andiamo a nada la cantatrice calva Teresa Castello e Niccolò Tommasini i ragazzi della scuola di teatro del teatro stabile diretta da Valerio Binasco e da Leonardo Lidi che è qui bravo Leonardo è un bel cammino questa della scuola di teatro è improvvisata questa cosa perché non se l'aspettava ma questo è il terzo anno sono 20 ragazzi sì sono 20 ragazzi 10 ragazzi 10 ragazze che potrete vedere al Prato inglese per la colargia di Filippo Dini per Romeo e Giulietta quindi quest'anno avranno questo battesimo di fuoco al Carignano e non vedo l'ora di vedere fantastico bene grazie Leonardo poi chiaramente torniamo a parlare del centro studio del teatro stabile ma Maura mi viene in mente questa cosa entrambi siamo stati allievi del professor Morteo io mi ricordo in una nuvola di goloise di fumo che dava gli esami e quindi noi cercavamo di insomma intravederlo il tuo ricordo universitario partendo appunto da Gerenzo Morteo ma anche il tuo ricordo forte con il centro studi perché lì ti sei anche formata hai fatto la tesi attraverso il centro studi se infatti il ricordo è relativo alla mia tesi la fortuna di Ionesco in Italia basata inizialmente su un carteggio tra Morteo e Ionesco che era appena arrivato al centro studi perché faceva parte del fondo Morteo ahimè Gerenzo Morteo era mancato da pochi anni e quindi io ho studiato al centro studi per realizzare quasi completamente la tesi Gerenzo Morteo è impossibile sintetizzare questa personalità immensa in pochissimi istanti ricordo l'apertura di sguardo il fatto che ci inducesse a vedere spettacoli di natura diversa ci spingesse a vedere di tutto la sacra rappresentazione il carnevale di Vrea la prosa il circhio il teatro di figura qualsiasi cosa e a dimostrare questa sua apertura io ho un caro ricordo delle sue ultime due direzioni del Festival di Chieri 1987-1988 il centro studi ho il piacere di sottolineare come essendo una biblioteca avendo avuto la possibilità di frequentare altre biblioteche non ho mai trovato la stessa competenza la stessa gentilezza e la stessa partecipazione nel senso che andando a fare una piccola ricerca sembrava che il tuo problemino fosse una questione vitale per Pietro per Anna per Davide e questo è meraviglioso quindi io ho il piacere di ringraziarli pubblicamente grazie grazie Maura Maura ha fatto tanti anni l'ufficio stampa assemblea teatro Juvarra Caffè Procop poi recita e soprattutto è critica teatrale non a caso abbiamo aperto un giornale non in Times ma da Repubblica qui tra l'altro rappresentato da te da Bruno Quaranta che dopo tanti anni con la stampa adesso scrive sulle pagine culturali di Repubblica ma tu Maura da sempre scrivi critica teatrale con grande attenzione con grande cura questo è il tuo ricordo ma Pietro ancora su quegli anni i direttori parliamo dei direttori prima sono susseguiti dopo Gianluca Renzo Morteo c'è stato Sermonti poi c'è stato ancora un fraseggio con Ferrero Piero Ferrero che poi ricordiamo e fine sei arrivato tu diciamo non tanto come direttore ma come responsabile perché ben presto il centro studio ha dovuto rendersi conto che non si trattava di gerarchie ma si trattava di essere operativi con risorse sempre molto limitate sia di personale e sia di denari per quanto riguarda il personale la cosa decisiva è stata la bibliotecaria Ida Chicco nella prima fase successivamente è subentrata Caterina Mangu ma credo che la grande risorsa è quella che ha sviluppato anche i nuovi sistemi informatici per la catalogazione della biblioteca e soprattutto dello spoglio dei periodici e di rendere ricercabile il minimo contributo disperso nelle riviste è stata Anna Peyron dal 1996 eccola qua ecco e quindi e poi anche Davide perché il centro studio ha passato delle traversie di traslocchi ed ha anche rischiato di essere deportato fuori Torino e tanto valeva chiuderci quindi non ha sempre passato dei momenti gloriosi Davide Giovanninetti che ci sta seguendo in regia quindi grazie ma per fortuna che credo dal 2007 in poi il centro studio è diventato non solo una colonna dello stabile come era sempre stato ma grazie alla direzione Fonsatti e la presidenza Christie Lang è stato un modello riconosciuto dal ministero come ha accennato poco fa Filippo senti l'ultima cosa Pietro i fondi vogliamo citare qualche fondo curioso quello di Rossi per esempio il fondo Armando Rossi era la miniera per le filodrammatiche che ricorrevano in via Bonzanigo andavano a frugare alla ricerca dei copioni era una fabbrichetta che faceva buste materiali così quando è morto questo materiale è finito tutto al centro studi ecco questo è l'esempio che patrimoni preziosi di memoria teatrale utili alla comunità alla cultura torinese se rimangono a disposizione di un ente pubblico continuano a portare frutto e il centro studi è il deposito la parola centro studi forse non è così bellissima perché anche ambigua è anche stata strumentalizzata magazzini del teatro della memoria del teatro per poter studiare fare ricerca grazie tantissime Pietro la sede la prima sede il teatro stabile nel 68 va in via Bogino 8 poi di lì si trasferisce al teatro regio nel 72 il teatro regio sarà inaugurato la grande sala di Mollino nel 73 il centro studi del teatro stabile però rimane lì e si trasferisce poi nella famosa a questo punto sede di piazza San Carlo perché è la seconda sede fin quando non arriva nell'ultima nella sua casa che è questa la sua casa abbiamo con i nostri potenti mezzi dato che il direttore artistico è in tournée come ben sapete il suo ultimo bellissimo spettacolo però siamo riusciti a così a trovarlo a rubargli un minuto ecco la testimonianza il suo ricordo il suo pensiero per questo compleanno dei 50 anni del centro studi del teatro stabile Valerio Binasco il centro studi del teatro stabile di Torino è una delle grandi eccellenze culturali del nostro teatro ma anche di tutto il panorama italiano sono innumerevoli gli artisti e anche gli studiosi che sono passati di lì e hanno sempre trovato tutto quello che cercavano e molte altre volte a me è capitato spesso di trovare invece quello che nemmeno sapevo che io stavo cercando è un luogo raro è bellissimo ogni volta che si entra in questo spazio passando dai nostri uffici si entra in un luogo con una luce dorata particolare la quantità dei libri e degli oggetti che sono lì ti fanno pensare di essere sia in una biblioteca che in una specie di museo allegro laborioso dinamico e mi viene continuamente alla mente l'aggettivo prezioso per indicare quello che io penso che sia il nostro centro studi ma la cosa più preziosa che c'è lì dentro sono proprio le persone che ci lavorano le persone che ci lavorano sanno accogliere sanno esserci in un modo molto dolce particolare e delicato come qualche volta è la luce che si trova lì dentro e sanno fare questo lavoro con competenza artistica cosa molto rara amore e voglia di comunicare questo amore questa competenza mi rendo conto ora che questi elementi che sono la competenza artistica l'amore la voglia di comunicare l'amore sono proprio gli elementi che costituiscono l'anima di un teatro anzi no ancora di più costituiscono l'anima del teatro in generale ecco perché io adesso invio un abbraccio pieno di gratitudine e di ammirazione per tutti voi ciao grazie grazie Valerio poi lo rivedremo sul finale ma in quegli anni non facciamo è la storia del teatro stabile il compleanno i 70 anni sono il prossimo anno parliamo del centro studi però dobbiamo citare anche qualche qualche direttore perché abbiamo come diceva il direttore prima Filippo Fonsati abbiamo scelto alcuni testi alcune rappresentazioni significative e abbiamo cercato di ricrearle a fine anni 70 arriva Mario Missiroli a dirigere il teatro stabile di Torino abbiamo scelto lui fa la trilogia della villeggiatura parliamo di Carlo Goldoni siamo nel 700 e noi adesso cerchiamo con le bravissime con le bravissime Cecilia Abramati e Teresa Castello di ricreare questo clima con le luci andiamo a trovare questo piazzato questo effetto ambra siamo nella primo momento della villeggiatura prendo la luce e queste sono le smanie della villeggiatura Giacinta e Vittorina è ambiziosissima se vede qualche cosa di nuovo ad una persona subito ne viene la voglia di averla avrà saputo che io mi ho fatto il vestito nuovo e l'ha voluto il lavoro ma non avrà penetrato del mariaggio non l'ho detto a nessuno non avrà avuto tempo a saperlo Giacintina amica mia carissima ma conti la mia cara gioia ma sedite prego che dite una bell'ora questa sta per incomodarmi per incomodarmi ma incomodarmi quando vi ho sentita venire mi si è allargato il cuore d'allegrezza come state? state bene? benissimo e voi? ma è superfluo domandarvi siete grassi e freschi e il cielo di benedica che consolate voi voi avete una cera che innamora cosa dite mai? sono levata questa mattina per tempo non ho dormito mi duele lo stomaco mi duele il capo figurarsi che buona cera che io possa avere ed io non so cosa marbia sono tanti giorni che non mangio niente 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 si può dire quasi niente io non so di che viva dovrei essere come uno stecco si si come uno stecco questi bracciotti non sono stecchi eh a voi non si contano l'ossa eh no poi per grazia del cielo mi ho bisogno niente caro la mia giacinia benedetta la mia vittorina aveva tanta voglia di vedervi ma voi non vi degnate mai di venire da me caro il mio bene non vado a nessun loco sto sempre in casa e io? esco un pochino la festa e poi sempre in casa io non so come facciano quelli che vanno tutto il giorno a girone per la città vorrei pur sapere se va o se non va a Montenero ma non so come fare ma se volete favorire Aurora qui da noi si va in tavola ho capito mi vuole mandar via così presto andate a desinare vedete bene si va in campagna si parte presto bisogna sollecitare ah maledetta la mia disgrazia ma da cambiare di tutto ma da vestire da viaggio si si è vero ci sarà della polvere non torna il conto rovinare un abito buono ma in quanto a questo poi me ne metterò uno meglio di questo nella polvere non ho paura mi ho fatto una sopravveste di cambellotto di seta col suo cappuccetto che non vi è pericolo che la polvere mi dà fastidio anche la sopravvesti col cappuccetto la voglio anch'io se dovessi vendere dei miei vestiti voi non l'avete la sopravveste col cappuccetto si si ce l'ho ancora io me l'ho fatta fin dall'anno passato eh non ve l'ho veduta l'anno passato non l'ho portata perché se vi ricordate c'era polvere si 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 non c'era polvere è propriamente ridicola quest'anno mi ha fatto un abito ah io me ne ho fatto uno bello vedrete il mio che non vi dispiacerà in materia di questo vedrete qualche cosa di particolare il mio non vi è né oro né argento ma per dir la verità è stupendo moda moda vuole essere moda oh circa la moda il mio non si può dire che non sia alla moda ma si si sarà alla moda non lo credete? ma si lo credo vorrei stare quando vede il mio mariage in materia di mode poi credo di essere stata sempre io delle prime e che cos'è il nostro abito? è un mariage mariage mi spiace che io abbia il mariage oh buccio gusto volevate averlo voi sola e perché? credete voi che io sono fanciulla invidiosa? io non invido nessuno e quando ve lo metterete questo bell'abito? non so può essere che non me lo metta nemmeno io sono così mi basta ad aver la roba ma non mi curo poi di sfoggiarla se andate in campagna sarebbe quella l'occasione di metterla a che ora partite? a ventun'ora ah dunque c'è tempo posso trattenermi qui ancora un poco sì sì ho capito aspettate un poco se avete qualche cosa da fare servitevi no niente mi hanno detto che il pranzo è l'ordine che mio padre vuole desinare partirò dunque no no ma se volete restate restate non vorrei che il vostro signor padre si avesse a inquietare eh per verità è fastidioso un poco mi leverò l'incomodo ma se volete restare con noi mi farete piacere quasi quasi ci resteremo per la curiosità di quest'anno ho inteso non vedete? abbiate creanza con chi parlate? con il servitore che mi sollecita non hanno niente di civiltà costumo io non ho veduto nessuno eh l'ho ben veduto io ho capito signora giacinta a buon rivederci addio cara vogliatemi bene che vi assicuro che ve ne voglio siate certa che siete con risposta di cuore un bacio almeno sì vita mia cara la mia gioia addio addio faccio faccio le sforzi a fingere che mi sento crepare le donne unidiosi io non le posso soffrire le smanie della villeggiatura Cecilia Bramati e Teresa Castello e questo non è previsto mentre c'è questo cambio scena non è previsto lo dico la regia non spaventatevi improvviso se mi date un po' di luce in sala non era previsto questa cosa ma facciamo un'improvvisazione perché non voglio cadere perché questa improvvisazione perché vedo Beppe Navello regista Beppe Navello perché giovane hai fatto l'assistente di Mario Missiroli sì ecco ecco il tuo racconto legato a Mario Missiroli ma ci vorrebbe una serata la sintesi della sintesi il bigname sicuramente sono stati anni straordinari con alcuni spettacoli altrettanto straordinari non solo la trilogia ma verso Damasco i giganti della montagna in una collaborazione continua con l'università di Torino Roberto Alonge il professor Alonge già ricordato prima è stata la colonna portante di quella direzione perché i quaderni di sala gli studi eccetera venivano fatti insieme e quindi sono stati anni molto creativi poi il diretto degli stabili anche più avanti hai diretto ah sì insomma è stata una carriera folgorante col centro studi invece col centro studi no io mi ricordo siccome come diceva sono molto giovane mi ricordo l'apertura del centro studi con Aldo Trionfo che Piero Crivellaro ricordava ha voluto il centro studi è un personaggio che ancora non è stato ricordato ma che è stato molto importante in quella fase Ettore Capriolo grande traduttore dramaturga all'epoca accanto a Trionfo in quella direzione traduttore dell'inglese dall'inglese in particolare del re Giovanni che Trionfo mise in scena e che finì sulle cronache criminali italiane perché poverino traduttore dei versi satanici di Salman Rushdie venne accoltellato a Milano da un terrorista islamico uno dei primi attentati al quale non al terrorista ma entro Capriolo io ero molto legato poi lui mi chiamò a Milano alla scuola del piccolo eccetera e questa è una prima come dire una prima fase una seconda fase è stata che cominciando a frequentare il centro studi che adesso è digitalizzato grazie a tutto quello che avete fatto ma allora c'erano le famose buste Piero Crivellano ci sono ancora ci sono ancora noi sappiamo preziosissime perché in quelle buste con il titolo dello spettacolo eccetera c'erano i quaderni di sala c'erano i fogli di sala c'erano le locandine c'era tutto quello che serviva e c'erano anche i copioni e io insomma andando a cercare in particolare fondi allora lavoravo molto in RAI facevo i programmi culturali quindi non soltanto e non necessariamente di opere teatrali anche tanta radio ti ricordi e proprio lì io ho trovato un titolo curioso il vampiro di Brofferio sono andato a leggere ho trovato una straordinaria commedia primo titolo in Europa per il teatro con il titolo il vampiro veniva dieci anni dopo il famoso romanzo del dottor Polidori e con l'allora direttore della RAI dell'epoca Cesare Dapino avevamo pensato di farne un programma televisivo poi che non andò in porto ma dieci anni dopo al teatro di Sardegna appunto dove io ero andato a lavorare venne fuori la possibilità di mettere in scena una cosa che coinvolgesse tutti gli attori del teatro di Sardegna e siccome il frontespizio diceva rappresentata la prima volta in Torino non ricordo esattamente la data ma poco dopo quel 28 1828 è la data di pubblicazione di quell'opera che è lo stesso anno di prima pubblicazione dei Promessi Sposi per dire quindi insomma è rappresentata per la prima volta dalla compagnia di sua maestà a Sarda al teatro Carignano di Torino allora quel fatto Sarda mi fece benvolere dal teatro di Sardegna che insomma un pieno tese che arrivava là era un po' poco bellissima due episodi che mi legano particolarmente al centro studio grazie grazie beh adesso Bruno Bruno Quaranta giornalista scrittore appunto dal giornale poi una lunga minitanza tutto libri con la stampa adesso pagine culturali della Repubblica il il tuo ricordo abbiamo parlato abbiamo accennato a Piero Ferrero il tuo ricordo di Piero Ferrero ma Piero Ferrero che è stato responsabile del centro studi che poi è stato nominato drammaturgo da Gregoretti è un signore che andrebbe salvato dalla sua riservatezza estrema signore di una grandissima sensibilità e di una straordinaria cultura dai classici greci latini alla sua letteratura francese lui stesso ci ha lasciato un libro nel 97 lettere ai romani bello perché necessario è un libro che rispecchia la sua sensibilità giansinistica e il suo culto della solitudine e che riconduce a un mondo a proposito di giansinismo che gli era così proprio con un nome tra gli altri un signore che ha scritto una storia di Port Royal che era Singh e quindi mi piace pensare che Piero Ferrero sia stato lo spettatore ideale nell'83-84 quando lo stabile mise in scena la Fedra per la regia di Ronconi e con Anna Maria Guarnieri nel ruolo di protagonista è straordinario Bruno questa capacità del centro studi di raccogliere tutto questo materiale della memoria la scrittura i secoli del teatro con la scrittura con lo scrivere che adesso è una cosa che sembra quasi impensabile no? dei giorni d'oggi con i piccoli rapidissimi messaggi whatsapp ecco il tema della memoria della scrittura di questa biblioteca che è più di una biblioteca è oltre a biblioteca è forse un museo come dice Valerio e forse anche altro un magazzino come dice Pietro vogliamo vogliamo dire il rapporto tra Torino e libro no? d'altra parte se questa città è la città dell'editore ideale come è stato definito Gobetti necessariamente ha un rapporto così intimo così profondo e così autentico e così severo con la parola ecco non dimentichiamo per stare al teatro che un signore come Pirandello mirava a rappresentare le sue opere non tutte qui a Torino perché aveva un profondo rispetto per il pubblico torinese e per la capacità di lettura che il pubblico torinese aveva dell'opera teatrale ti ringrazio moltissimo Bruno e vorrei chiedere proprio per questo rapporto che già Pietro accennava strettissimo con la professoressa Mazzocchi posso darti del tuo professoressa io faccio l'eterno studente questo rapporto simbiotico che c'è tra l'università Dams scienze della formazione e e non solo perché c'è tutto l'ateneo che segue facoltà di lettere che segue ovviamente da vicino con le tesi con il lavoro con i ragazzi che vengono e con iniziative legate all'università grazie mille il primo incontro con il centro studi è stato e con Pietro negli anni 90 ai tempi degli studi dottorali eravamo in piazza San Carlo ancora in quel periodo e da lì sono nati tantissimi progetti noi partivamo da Milano io studiavo lì e venivamo a fare ricerca al centro studi che già all'epoca era un luogo abbastanza unico nel panorama per me europeo e la perché è un luogo unico perché non è soltanto un luogo di conservazione dove pure questo accade e con un grandissimo amore grandissima dedizione per questa realtà che può essere fragile come la memoria del teatro ed è una dedizione che io ho trovato un amore per il proprio mestiere che ho trovato in Pietro che si invera oggi e da molti anni nella professionalità di Anna e di Davide e nel loro modo di rendere questo luogo unico ma non è dicevo soltanto una questione di conservazione che pure è fondamentale ma con il centro studio ormai da molto tempo e sempre di più siamo in una relazione di progettazione di ideazione creiamo insieme abbiamo moltissimi progetti che ci ci rendono orgogliosi perché sono estremamente creativi secondo me sono davvero di grande qualità stiamo rinnovando forse le firme sono già state apposte ma insomma stiamo chiudendo l'accordo quadro tra il rettore tra l'Ateneo a firma del rettore e il TST a firma del presidente e in questa occasione Anna ha ricordato riallineato tutti i progetti che sono stati fatti dal 2021 a oggi e ci siamo stupiti di quanto non solo di quanto abbiamo fatto insieme ma di quale importanza sempre più profonda sta prendendo il rapporto fra il centro studio il teatro stabile e l'università ricordo per concludere proprio solo due cose ma sono appunto due momenti di una storia molto più lunga uno riguarda più direttamente Pietro perché il progetto Lucio Ridenti a cui siamo tutti molto affezionati è nato un libro molto bello un convegno molto molto particolare molto interessante e il progetto Castri che abbiamo fatto io Anna e Thea con un gruppo di lavoro con un sacco di aiuto però insomma ed è stato un momento che io ricordo fra i più belli della mia carriera di docente ricercatrice perché erano dei momenti proprio di progettazione creativa molto forte con un materiale stupendo perché sono arrivati appunto i tacquini castri e abbiamo insomma molto lavorato per la messa a sistema di tutta una serie di materiali preziosissimi insomma quindi che dire non possiamo che continuare ormai siamo troppo insibiosi profondamente legati e felicemente legati grazie grazie andiamo avanti andiamo avanti negli anni poi arriva Ugo Gregoretti è stato citato prima Ugo Gregoretti è un personaggio singolare arriva dal successo televisivo è un grande inventore un grande innovatore televisivamente parlando sicuramente vi ricordate delle sceneggiati che hanno fatto la storia della televisione in bianco e nero ma arriva qui e si inventa due cose una sono passa un po' diciamo sotto la critica il bersezio le miserie di Missou Travet fatto da Bonacelli attore romano che arriva qui e scompiglia un po' le carte e quindi si ricorda per questo passaggio e per Reubu l'idea geniale di affidarsi a Walter Chiari un genio di attore che forse in quel periodo ha qualche problema e alla fine non fa lo spettacolo Walter Chiari viene sostituito direttamente da Ugo Gregoretti nella parte del protagonista e arriviamo a un regista internazionale perché arriviamo a Luca Ronconi che arriva a fine degli anni 80 c'è una straordinaria invenzione che è una fabbrica Torino è la fabbrica il Lingotto ha appena cessato la sua attività di fabbrica e in quella fabbrica costruisce uno spettacolo ovviamente non più producibile non esportabile sei ore di delirio straordinario teatrale sono gli ultimi giorni dell'umanità di Karl Krauss con degli attori De Frankovic la Guarnieri la Tella Zingaretti Populizio Galatea Ranzi insomma con tantissimi grandissimi attori sono esattamente 64 attori e tra l'altro con un grandissimo sforzo tecnico perché ci sono tantissimi tecnici alcuni uno e qui in sala perché ha lavorato in quella produzione il teatro stabile quindi c'è un impegno l'impegno dei tecnici è sempre stato fortissimo parlo di elettricisti macchinisti tecnici audio video audio insomma è un grandissimo sforzo di questo di questo progetto vendiamo una clip visiva edizione edizione straordinaria edizione straordinaria assassino dell'erede al trono il principe ereditario assassinato con la consorte l'assassinio l'assassinio di sara ereditario il principe ereditario è la consorte assassinati arrestato il colpevole arrestato il colpevole un serbo un serbo un serbo l'attentatore un serbo un serbo un serbo l'attentatore edizione straordinaria edizione straordinaria edizione straordinaria straordinaria assassinato l'erede straordinaria al trono con la consorte qui meglio che altrove si coglie lo stato d'animo della città vede la notizia si è sparsa sul corso come un incendio spinto dal vento qui dove si frangono i flutti la gaia animazione e questi erano gli ultimi giorni dell'umanità poi mi ricordo al Carignano un fantastico strano intorludio e tocca poi anche un grande autore del novecento Pierpaolo Pasolini nel 92 93 e abbiamo scelto questo piccolo brano perché mette in scena a fabulazione a fabulazione l'aveva portato in scena decine di anni prima Vittorio Gasman quest'edizione c'è Umberto Orsini nella parte del padre è un dramma della borghesia il rapporto tra un padre e un figlio e noi su questo abbiamo ricostruito la preghiera laica il padre nostro padre nostro che sei nei cieli io non sono mai stato ridicolo in tutta la vita ho sempre avuto negli occhi un velo di ironia padre nostro che sei nei cieli ecco un tuo figlio che in terra è padre è a terra non si difende più se tu lo interroghi egli è pronto a risponderti è loquace come quelli che hanno appena vissuto una disgrazia e sono abituati alle disgrazie anzi ha bisogno lui di parlare tanto che ti parla anche se tu non lo interroghi quanta inutile e buona educazione non sono mai stato maleducato una volta nella mia vita avevo il tratto staccato dalle cose e sapevo tacere per difendermi dopo l'ironia avevo il silenzio padre nostro che sei nei cieli sono divenuto padre e il grigio degli alberi sfioriti ormai senza frutti il grigio delle eclissi per mano tua mi ha sempre difeso mi ha difeso dallo scandalo dal dare in pasto agli altri il mio potere perduto infatti Dio io non ho mai dato l'ombra di uno scandalo ero protetto dal mio possedere e dall'esperienza del possedere che mi rendeva appunto ironico silenzioso e infine inattaccabile come mio padre ora tu mi hai lasciato lo so ben io cosa ho sognato quel maledetto pomeriggio ho sognato te ecco perché è cambiata la mia vita e allora poiché e ti ho che me ne faccio della paura del ridicolo i miei occhi sono divenuti due buffi e nudi lampioni del mio deserto e della mia miseria padre nostro che sei nei cieli che me ne faccio della mia buona educazione chiacchiererò con te come una vecchia o un povero operaio che viene dalla campagna reso quasi nudo dai quattro soldi che guadagna e che dà subito alla moglie restando lui squattrinato come un ragazzo malgrado le sue tempi e grigie calzoni larghi e grigi delle persone anziane chiacchiererò con la mancanza di pudore della gente inferiore che ti è tanto che ti è tanto cara sei contento ti confido il mio dolore e sto qui ad aspettare la tua risposta come un miserabile buon gatto aspetta gli avanzi sotto il tavolo ti guardo ti guardo fisso come un bambino imbambolato e senza dignità la buona reputazione padre nostro che sei nei cieli che me ne faccio della buona reputazione e del destino che sembrava tutt'uno col mio corpo e il mio tratto di non far per nessuna ragione al mondo parlare di me che me ne faccio di questa persona così ben difesa contro gli imprevisti affabulazione Niccolò Tomasini è dura perché come diceva il professore Guido Davico Bonino che voglio ricordare altro direttore del teatro stabile qui siamo nell'esametro alessandrino quindi è inversi e quindi è una struttura musicale complessa anche ovviamente soprattutto nella recitazione ma io scenderei nuovamente se mi date di nuovo un po' di luce in sala così scaldiamo un po' la platea ci sono tante persone che vorrei salutare ma devono insomma correre e andare sulle persone Mario Brusa Mario Brusa che non ha bisogno di presentazioni una voce e anche un legame forte con il centro studi perché so dalle mie spie ma anche da te che spesso ti rivolgi ad Anna vieni prima con Crivellaro adesso con Peyron è stata proprio la nostra miniera in tutti questi anni intanto buonasera a tutti in tutti questi anni di attività di formazione teatrale sono 50 gli anni di scuola di teatro che abbiamo fatto a Torino con tanti compagni di lavoro il riferimento del teatro stabile e del centro studi è stato determinante non soltanto per quello che riguarda il teatro e la letteratura italiana ma anche per quella locale perché si è arricchito ultimamente di quella fondazione di quell'ascito di Armando Rossi che ha ricordato Pietro prima e che è determinante anche per la ricerca delle nostre radici soltanto al teatro al centro studi potevamo trovare le farsi di Alione ad esempio che abbiamo rappresentato quindi riscoprendo una lingua piontese una lingua non un dialetto che ha delle radici antichissime e questo sarebbe solo un esempio sono tantissimi anche le varie versioni del Trevet di Bersezio al primo copione originale a quelli del teatro non amatoriale ma del teatro un po' meno impegnato e poi quella miriade di copioni che ha lasciato anche Armando Rossi e che qui si possono trovare che non sono stampati ma sono quei copioni meravigliosi scritti a mano grazie davvero alla presenza del centro studi e grazie alla possibilità di far conoscere la cultura non soltanto quella nazionale ma anche quella locale che viene un po' dimenticata ultimamente grazie al centro studi grazie Mario festival delle colline vedo Sergio Riotti tantissimi anni in Rai a diciamo fare recensioni straordinarie al Tg degli spettacoli teatrali ma anche grande frequentatore del centro studi e prima il regista per tanto tempo perché è vero è vero e tanto tempo il regista prima è vero ma dunque io voglio dire una cosa di una grande piacevolezza della collocazione adesso del centro studi qui al Gobetti perché io lavoravo alla Rai che è esattamente a 53 metri e quando mi mancava qualcosa venivo al centro studi e essendo poi un luogo veramente confortevole dove c'erano degli amici magari stavo un po' di più del necessario poi ricomparivo prima il centro studi mi è servito per fare la tesi perché Gian Renzo Morteo di cui sono stato allievo come Chiara Alpestre che è qui mi aveva indirizzato verso una tesi sul teatro Giacobino in Italia e molti materiali li ho trovati al centro studi dove lavoravo quotidianamente tutti tranne un libro che era di Federico Doglio Teatro e Risorgimento e allora Gian Renzo Morteo mi disse vieni a casa mia perché io ce l'ho bisogna soltanto sostituirlo io non ho mai capito che cosa volesse dire finché non sono andato a casa sua sosteneva il letto era una pila di libri che sosteneva il letto perché una gamba era mancante e uno di quei libri era Federico Doglio Teatro e Risorgimento e quindi Morteo mi disse prendine uno dello stesso formato e dalla libreria presi uno dello stesso formato e lo misi al posto di Teatro e Risorgimento ce l'ho ancora non glielo mai restituito povero Gian Renzo ma sono sicuro che lui me lo avrebbe regalato e poi tante tante altre cose gli ultimi giorni dell'umanità ho fatto la regia radiofonica e per rimettere insieme i copioni che era veramente un'impresa sono stato al centro studi c'erano al Teatro Stabile tanti amici insomma è un pezzo importante della mia vita non voglio farlo a lunga grazie Sergio grazie abbiamo abbiamo ricordato tante volte il professor Gian Renzo Morteo ma mi piace ricordare anche il sabato il lettorato con Giovanni Moretti che veniva a fare il lettorato e quindi noi con grande attenzione ci divertivamo perché ci insegnava a leggere ad alta voce i copioni Università di Torino Professor Mancini lei è proprio un grande amico un grande amico del centro studi la sua testimonianza dunque la frequentazione del centro studi è una quasi un'attitudine che si apprende dai maestri nel momento dell'arrivo a Torino al centro studi si osserva le persone lavorare mettersi alla prova delle fonti e così si ha l'occasione di toccare nel vivo la materia nel suo farsi e non semplicemente limitarsi a riceverla come conclusione o peggio ancora come spiegazione della storia in un certo senso l'esperienza dunque dell'archivio teatrale consente al ricercatore di immergersi nel vivo dei fatti di ricondurli alla loro condizione di possibilità e in definitiva di mantenere un'apertura storiografica che è in definitiva quella che caratterizza il metodo di studio ed è questa un'esperienza che si fa solo alla prova delle carte tra le iniziative che il centro studi promuove oltre a quelle ricordate dalla professoressa Mazzocchi vi è poi anche la rassegna degli incontri di retroscena una delle tante occasioni con cui il teatro prolunga l'azione culturale degli spettacoli oltre l'evento spettacolare stesso facendo così creando occasione di risonanza per l'impatto critico di ciò che si fa e così ecco che i ricercatori gli studenti i docenti hanno l'occasione di confrontarsi con i protagonisti delle stagioni che si susseguono anno dopo anno e fare esperienza in prima persona infine vorrei anche ricordare la particolare lente storiografica attraverso la quale si impara a studiare la storia al centro studi che è appunto quella di Lucio Ridenti dal cui giacimento documentario dal fondo archivistico rimane una grande lezione che è quella della centralità dell'attore all'interno del fatto teatrale un concetto che egli ha ribadito a più riprese nei suoi scritti teorici ricordo uno scritto del 47 pubblicato dalle edizioni del dramma l'attore padrone della scena nel quale Ridenti richiamava proprio questo principio la centralità nel teatro dopo tutto comunque dell'attore e il centro studi è il luogo in cui anche lo studioso si trova a contatto con il teatro nel suo farsi e deve farne esperienza per poter operare anche egli stesso e dunque trattare la materia come materia viva e non come materia inerme morta grazie grazie davvero i direttori si susseguono Guido Davico Bonino poi Gabriele Lavia e arriviamo a Massimo Castri abbiamo una clip in omaggio di Massimo Castri John Gabriel Bormann di Ibsen e la vediamo grazie a tutti Dove vai? Nella tormenta della vita, hai capito? Lasciami, Ella! Ma dov'è? Siamo, John? Io non mi ritrovo più. Seguiamo le orme sulla luna. Ma perché dobbiamo sedere così in alto? Bisogna seguire il sentiero torturoso. Ma io non ne posso più. Vieni, vieni. Pochi passi ancora. Ora ne saremo lassù, dove si vede lontano. C'era una panchina, una volta. Oh, che mi ricordi ancora? La potrai riposare. Ecco, un applauso per questo allestimento. Anche a questo, scusate, non è previsto. Per improvviso, se mi dati di nuovo la luce in sala, ma proprio un flash. professore Allonge, ma le carte di Castri sono arrivate dal centro studi grazie anche alla sua intercessione, mi risulta. Ce la fa... Sì, credo che il modo da parte mia di dire bene del centro studi è proprio questa. La sorella di Castri, che abitava a Firenze, abita, credo, ancora oggi, mi telefonò e mi disse ma ho tutti i taccuini, tutti i materiali di Massimo. Ho chiesto al professore di Firenze che insegnava storia del teatro, Siro Ferrone, di prenderli, di portarli nell'università. Ma era normale, perché Firenze è Firenze. Cioè, Castri abitava a Firenze. E quindi, insomma, la sorella abitava a Firenze. Quindi, insomma, era assolutamente normale. E io dissi, ma come vai? Non vuole. Ma Siro Ferrone è un personaggio importante della storia del teatro, ma anche un po' balzano. E, insomma, non li volle. Mi disse delle cose assurde. Disse, ma non c'ho posto, ma invece non è un grande quantitativo, sono dei taccuini, insomma. Allora, devo dire, potevo avere la tentazione di dire, vabbè, allora, lo prendiamo noi all'università di Torino, dove c'era il Dams e dove c'è ancora adesso il Dams. Quindi sarebbe stato un titolo di merito. Perdoni se li interrompo, ma il Dams è stato anche un merito suo che è arrivato a Torino. È stato uno dei fautori di portare il Dams a Torino. Sì, certo. Grazie. Dovuto, dovuto, professore. Anch'io ho dato un esame. Cerco di... Comunque, conclusione. Io ho preferito parlarne con Crivellaro e mettere in collegamento Crivellaro con una sorella di... perché mi sembrava che il centro studi fosse più, come dire, garantisse di più una cornice tale, ma poi, insomma, c'erano già altri fondi. E così è successo. E così è successo. Grazie, professore. Grazie. Scusate, devo correre, devo correre. Ma nel 2001, nel 2001, arriva questo spettacolo avrestito da Massimo Castri, La Regione degli Altri, da Luigi Pirandello, perché è il centenario del taccuino di Coazze. Lei, quando ha detto taccuino, mi ha fatto, così, scattare questa molla. E in quell'anno ci fu anche una grande sovvenzione del Ministero. Anche il centro studi fece una bella mostra. Bella mostra. Eh, diciamolo, dillo. Una bellissima mostra con Lia Coazze. Sul tema della fortuna della messa in scena e collaborò anche il professore Alonje, perché ovviamente trattando di Pirandello il suo cavallo di battaglia. Bellissimo, è bellissimo questo ricordo, che ci lega però anche un altro ricordo, perché nel 1984 questa sala viene chiusa. Nell'83 c'è i famosi fatti tragici del Cinema Statuto, 64 morti. L'anno dopo, e in quei mesi, tutti i teatri, i cinema, chiudono per misure di sicurezza. Il teatro Gobetti rimane chiuso per 15 anni. Proprio in occasione di quello spettacolo la sala viene riaperta. E in un altro modo, perché viene riadattata, come la vedete oggi, però è anche importante ricordare appunto questo legame con lo spettacolo e la riapertura di una sala teatrale, di questa bellissima, straordinaria sala teatrale. Bene, a questo punto non mi rimane altro che chiamare Cecilia Bramati e Teresa Castello per la ragione degli altri Luigi Pirandello. Vedo che siete venuta voi in sua vece. Io l'ho visto uscire di qua pochi momenti or sono. Sì, con una scusa, fingendo di aver dimenticato di comprare un giocattolo alla bambina. Ma dunque deve ritornare? State tranquilla, non ritornerà più e da me non avrà più nessuna molestia. Ma Dio, ma questa agitazione è mia. Dunque, quello che ho finito ora di dirvi non vi tolgono ancora il sospetto di un ridicolo accordo tra me e lui. Io non potevo supporre che dovesse ritornare. Ero venuta per parlare da sola con voi. State sicura che questa sarà l'ultima volta che verrà. Io non dubito della vostra parola. Già conoscevo la vostra intenzione e sono venuta anzi apposta per dirvi che non è possibile. Allora non comprendo più proprio quello che voi vogliate da me. Dovrei farlo sentire al vostro cuore e forse comprenderà. Non subito, certo, ma forse quando la ragione avrà finito di gridare contro di me. Ecco. Sì, allora sì, spero che il vostro cuore stesso vi imporrà una sua più profonda ragione non più contro di me, ma contro voi stessa. Ascoltatemi con pazienza e credete, già lo vedete, non ho nessun sentimento contrario per voi. La ragione per cui sono venuta senza astio, senza odio, è più crudele certo dell'odio stesso per voi, ma non l'ho voluta io. Non l'ho imposta io questa ragione. vi dite disposta. È vero a troncare questa relazione? Sì, da un pezzo. Ma più nessuna relazione, già da un pezzo. Voi mi vedete, signora. Quando una donna si riduce così, non potete giudicare forse perché non mi avete conosciuta prima. Ho potuto chiedere aiuto, aiuto di denaro all'uomo che mi conobbe un'altra. Voi lo sapete che ero stata sua fidanzata e che ruppi io allora il fidanzamento perché non tolleravo nulla. Ebbene, a tutti, tranne che a lui, avrei dovuto chiedere aiuto. Se l'ho chiesto a lui, signora, potete essere sicura che nulla di più vivo poteva esserci in me da farmi provare poi un piacere che dall'incontro con lui dopo tanti anni purtroppo è seguito. Come io stessa non lo so. Forse perché ciò che fumo rimane sepolto in noi. Che gioia può dare ciò che è morto da tanto tempo, schiacciato, sotto il peso dell'avvilimento, dei bisogni, della stanchezza. Tutto finito, quasi prima di cominciare. se non si fosse dato il caso quella bambina. Ecco la bambina. Ma da un pezzo, vi dico, io stessa tante volte, tante volte gli ho proposto di finirla. E come? Avete ricordato la bambina? Come dite ora finirla? Perché? Io non so, dico finirla come si finisce, non vederci più. Ma dunque pretendete? Nulla! Vi assicuro proprio nulla, non pretendo nulla io. Eh, vi pare così. Ma come non pretendete nulla? pretendete da lui invece l'impossibile. Perché? Io non so se egli vuole. Vuole. Che può voler lui? Riconciliarsi con me? Questo sì, questo lo vuole, ma voi appunto glielo impedite. No, no, io no. Io anzi... E aspettate, lasciatemi dire, non pretendete da lui un sacrificio che certo voi da parte vostra non vi sentite di fare. Sarebbe possibile a voi rinunziare... Ma sì, a tutto. Alla figlia? No. che c'entra mia figlia. Non voglio nulla. Mi tengo mia figlia, me ne andrò via di qua, lontano, non basta! E che altro vorreste? E questo era Luigi Pirandello. Grazie a Cecilia Bravati e a Diego... E... 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 E lo dobbiamo... A tutti gli insegnanti, ma chi la dirige? Valerio Binasco e Leonardo Lidi. E quindi... Un applauso a loro che sono gli insegnanti. Sono 20 ragazzi, la scuola del teatro stabile è arrivato al terzo anno, il prossimo anno ci saranno dei nuovi ragazzi. Adesso saranno in scena, come diceva adesso, tra poco, su Prato Inglese nel mese di luglio, con due allestimenti di Filippo Dini, credo, correggimi se dico qualche strafalcione, e poi saranno alcuni anche in tournée il prossimo anno perché ci saranno delle repliche, immagino, di uno spettacolo di cui non vogliamo dire di grande successo dello scorso anno, della produzione sempre legata a Luigi Pirandello. Tea, Tea della Valle, tu hai fatto, prima di essere regista, drammaturga, giovane, l'assistente di Massimo Castri, e quindi hai collaborato, poi naturalmente il centro studi l'hai assolutamente frequentato sempre negli anni, partiamo però da questo tuo ricordo, da questo tuo inizio. Sì. Allora, nell'autunno del 2001, le prove dello spettacolo Madame de Sade, che aprì la stagione del Teatro Carignano quell'anno, con una scelta bizzarra dal punto di vista del repertorio, da parte del nuovo direttore, cominciarono l'11 settembre del 2001. E dopo una decina di giorni, le prove erano prove a tavolino e non erano a Torino. Si sposarono le prove al Carignano e io, che ero alla prima esperienza di lavoro, mi trovai nel palcoscenico del Teatro Carignano, circondata da un labirinto di siepi sempreverdi, progettato da Maurizio Balò, nascosta dietro una di queste siepi, cioè in quinta, cercando di seguire sul copione il ritmo molto rapido del montaggio in scena che Castri proponeva alle attrici. Sei donne che discutevano di un grande assente, il Marchese de Sade. Questo è stato un po' il battesimo, compreso il fatto che mi sono presa alcune sgridate perché alle prove mi incantavo, nel senso che guardavo il regista dirigere gli attori, recitare e cercare di seguirlo, e letteralmente mi incantavo, seguiva strillata del regista che cosa stai facendo, poi le prove riprendevano chiaramente. Questo è stato l'inizio di un percorso molto lungo perché ho seguito il lavoro di Massimo Castri per circa dieci anni e sono tornata a occuparmi di lui nel 2021 quando appunto il centro studi ha ricevuto il fondo Massimo Castri dalla famiglia e quindi mi sono occupata di farne una prima catalogazione, organizzazione e sistematizzazione, difficilissima perché Massimo Castri ha scritto tutta la vita, i taccuini che ha lasciato, che documentano non solo il suo lavoro di regia, ma anche tutte le sue letture, i suoi studi, era un uomo a tutto tondo, si direbbe di scena e di libro, nel senso che aveva un ideale da toscano umanista, un po' rinascimentale, di un'apertura a 360 gradi che cercava di unire la pratica e la teoria in un'unica direzione di senso. E questi taccuini sono preziosissimi perché documentano una fase, se tante fasi del lavoro teatrale sono nascoste perché quello che il pubblico vede è lo spettacolo che è la punta di un iceberg che è fatto del lavoro di tantissime persone, il famoso dietro le quinte, qui c'è un iceberg ancora un po' più profondo perché è il lavoro che il regista fa da solo, si confronta con la pagina, si confronta col testo, quindi in realtà non è da solo, parla con gli autori, parla con se stesso. E una delle cose più belle di questi materiali che sono interessantissimi è la quantità di domande che si trova. La sensazione è che c'è un movimento continuo del pensiero, il fatto che bisogna sempre dubitare, chiedersi e creare un movimento. L'occasione di questo fondo è stata anche quella di poter costruire, grazie a questa collaborazione tra il Teatro Stabile di Torino e l'Università, il primo sito web dedicato alla figura di questo grande artista intellettuale del teatro italiano, che quindi adesso è un pochino più visibile anche alle nuove generazioni perché nel sito si è cercato di mettere insieme non soltanto parti testuali ma anche contributi multimediali, quindi audio, quindi video e molte immagini per cercare di far conoscere questo teatro che ha nel suo bello e nella sua magia anche il fatto di essere effimero. Il convegno che è stato fatto, che ricordava la professoressa Mazzocchi, è stato intitolato per uso di memoria, riprendendo uno spettacolo scritto da Castri con Ione Liberovici nel 72, proprio perché questa memoria va usata, va rivissuta, riempita di vita, reinventata e in questo il centro studio è un posto dove andare per continuare a far rivivere tutto quello che sono queste tracce piene di vuoti da riempire che il teatro ci lascia. Grazie, grazie. Sono gli anni di formazione di una nuova generazione, di dramaturghi, di registi. Eh sì, sono questi gli anni, perché Marco Lorenzi in quegli anni tu prima sei allievo della scuola di teatro, del teatro stabile, poi passi alla regia, al lavoro, fondi poi il mulino d'amleto e insomma di lì parti, però sempre sei molto legato al centro studi. Sì, innanzitutto vi ringrazio per l'invito, per l'opportunità di essere qui e a dare insomma il mio contributo a questo festeggiamento, a questa celebrazione. Sì, il legame con il centro studi per me è fortissimo, è viscerale, io chiedendomi che tipo di contributo avrei potuto portare del mio punto di vista, mi sono detto che poteva essere interessante in un periodo, in questi ultimi anni, il centro studi ha vissuto anche questa forte spinta verso la digitalizzazione che ne fa un'eccellenza anche sotto questo punto di vista, però in realtà dicevo prima anche che avevo desiderio invece di parlare, di uscire dal digitale, di parlare di quella che è la mia esperienza del centro studi come luogo, come luogo fisico, come spazio accogliente, come luogo, come un porto in cui trovare riparo in alcuni momenti molto particolari poi della carriera, del lavoro di tutti noi. Ecco, nello specifico, per quanto riguarda me, io sono un regista che crede fortissimamente che il teatro si invera, si fa nel momento in cui si condivide con una comunità, prima quella degli attori e degli artisti con cui si lavora, poi quella degli spettatori. Purtuttavia, nonostante questo suo essere, per me, arte di una comunità, visto il lavoro che faccio, inevitabilmente, come dicevi anche tu, il regista passa dei momenti di profondissima solitudine, che sono quelli che io chiamo del corpo a corpo con l'autore, il corpo a corpo con il testo. Ecco, questi momenti di sconforto, di solitudine, che però nel centro studi, il centro studi mi ha fatto sempre alleviare in qualche modo, ho sempre trovato un posto in cui questa solitudine si stemperava, e si stemperava in cosa? Non solamente nell'incontro con dei veri e propri angeli custodi, come Anna, come Davide, come Pietro, non so se avete presente la scena di Il cielo sopra Berlino, quel piano sequenza magnifico in cui Bruno Ganz, ecco, per me il centro studi, io mi sento accolto e accompagnato così fondamentalmente, ma non solo da loro presenze fisiche concrete, ma anche da quella essere, sentirsi parte improvvisamente di milioni di domande fatte da altri artisti prima di te, da altri esseri umani prima di te, che sono ferme su quelle pagine, in quei modellini, in quei lacerti di memoria di altri spettacoli, e che fanno sì che le mie domande, che poi chi se ne frega delle mie domande, insomma, le mie, di chi verrà dopo di me, si inseriscono all'interno di qualcosa di più grande, di più importante, che ci tocca a tutti e ci riguarda a tutti, e che quindi si spera che in questo modo possa riguardare anche il pubblico che ci viene a vedere. Se posso rubare un minuto, mi spiego ancora meglio con un piccolo aneddoto personale, stavo preparando proprio l'hotello, un altro prato inglese, forse era il 2019, una roba del genere, credo, e disperato ovviamente nell'inafferrabilità dell'hotello, tutti i giorni venivo al centro studi a studiare, insomma. E un giorno Anna mi vede disperato e mi fa ho una sorpresa per te. Erano appena arrivati i tacquini di Castri, giuro che non me l'ero, cioè, me l'ero preparato, quindi. E mi porta questo tacquino, pigna, no? in cui c'era Castri che aveva raccolto tutti i suoi appunti, no? Su questa versione che poi credo che non abbia mai fatto dell'hotello di Verdi. Quindi, peraltro, non ho potuto rubare niente in quel caso. Ma la cosa bellissima fu che nel leggere, nel buttarmi dentro il manoscritto di Castri, la cosa che più mi diede sollievo era che Castri, e stiamo a parlare di Castri, no? Di Marco Lorenzi, si faceva le stesse domande che mi stavo facendo io. Aveva le stesse paure che avevo io, le stesse fragilità che avevo io. Se ce le aveva lui, mi potevo sentir preso per mano, no? E condotto con un po' meno paura verso quello spettacolo lì. Spero che, insomma, il Centro Studi continui a rimanere questo nel tempo, non un luogo dove si trovano delle risposte, ma in cui si trovano le domande giuste che per il teatro serve. Grazie Marco, grazie. Si susseguono i direttori, arriviamo a Mario Martone, arriviamo, stiamo arrivando, insomma, ai nostri giorni quasi. Vediamo una clip che ce lo presenta, questa è una produzione del Teatro Stabile di Torino, morte di Danton, di Georg Buchner. Siamo nella stagione 2015-2016 con Giuseppe Battiston. Io ho dichiarato guerra alla monarchia sul campo di Marte. Io l'ho battuta il 10 agosto. Io l'ho uccisa il Ventuccio Nero. E io dove quanto di sfida ho lanciato ai re pure a testa di re. Adesso ti do un'occhiata a questo scritto infamante tanto che tutto il mio essere vibra. chi sarebbero coloro i quali hanno dovuto costringere Danton a farsi vedere il quel giorno memorabile, vale a dire il 10 agosto. Chi sarebbero quei quegli esseri privilegiati che gli prestarono l'energia? si mostrino adunque questi miei accusatori. Le regizie non sono totalmente padrone di me stesso. Io smaschererò dagli assunti borgatti e io ricaccerò megnuno dal cuore non avrebbero mai dovuto strisciare fuori. No, non serve il campanello. La voce di Grifender tra il proprio erogio e la propria vita è l'obbligo di sovartiare il tuo salario. In settembre sono stato io a imbarcare la giovane lidiata della rivoluzione con i torni smembrati degli aristocratici è stata mia la voce che ha forgiato arti per il popolo con l'oro degli aristocratici e dei ricchi è stata mia la voce che come un uratano si è fallito sotto un dato di violette i sateliti del dispostismo Tantone la sua voce è finita lei è troppo citato concluderà la sua difesa la prossima volta lei ha bisogno di calma ha seduto e tolta adesso conoscete Tantone ancora qualche e si è stoppirò il remorso della gloria la regia di Mario Martone stagione 15 16 un grande periodo di teatro ma ancora più grande arriva subito dopo con Valerio Binasco però io adesso voglio fare un'altra sorpresa perché siamo quasi sul finale e voglio sparegliare un po' le carte voglio un attimo prima perché c'è ancora un brano teatrale una lettura teatrale ma voglio un attimo i ragazzi se siete tutti spero di sì che non siate andati al bar a prendere un caffè o qualcosa o una tisana non lo so venite un attimo presentatevi perché ho piacere che le persone vi conoscono e soprattutto venite qua un po' in proscenio venite vicino a me ecco allora vorrei che in dieci secondi vi presentate ma anche il vostro cuore oltre a essere attori fare la scuola di attori su se avete altri battiti insomma altre aspirazioni l'hai preso l'ho preso l'ho preso è la fine adesso no no ciao a tutti sono Cecilia Abramati io vengo da Roma e ho 23 anni in realtà appunto il mondo del teatro è tutto un po' nuovo e da quando l'ho scoperto è insomma io aspiro a questo è proprio il sogno quindi non è che che c'è altro che dici vabbè ma magari se è vano e se non va questo ho mollato il microfono è sempre drammatico questo lo tengo Teresa Castello vengo da Cagliari insomma lontano lontano nel regno di molto molto lontano il mio sogno a quanto pare come praticamente è una borsa di studio per studiare il teatro stabile dicono che il mio sogno sia quello di recitare con Benedit Camberbatch sullo stesso palco bravissima sicuramente sono sono Nicolò Tomassini e colgo questa occasione per ringraziare anche io il centro studi perché io mando sempre tantissime mail ad Anna Perron e lei mi manda tutti i testi che chiedo e il centro studi è un posto bellissimo dove noi riusciamo davvero a trovare tutto quello che cerchiamo quindi grazie la tua ispirazione? io sono un attore e vorrei anche fare il regista grazie Diego sono Diego Pleoteri ho 25 anni scusate così sembro un po' uno ecolisti anonimi ma allora io scrivo anche la mia ispirazione ma ne ho due una vabbè a parte a fare l'attore teatro e queste cose qua l'altra è scrivere un romanzo o aprire un negozio di fiori bellissimo grazie grazie ragazzi bene siamo arrivati appunto alla direzione di Valerio ricordiamo un allestimento questo del 2019 classico Shakespeare l'Amleto chiamo Cecilia Bramati e Diego Pleuteri qui perché saranno gli interpreti di questo dialogo tra Ophelia e Amleto hai avuti buoni giorni mio signore mi riferisco e ringrazio buoni buoni signore ho qui con me dei tuoi regali li conservo da tempo e non è giusto ti prego di riprenderteli io io non ti ho dato niente lo sai bene signore mi le hai dati con parole di un fiato così dolce che il pregio era maggiore quel profumo si è perso ora riprendili non amo i regali il cui scopo era volgare eccoli sono tuoi sei onesta signore sei bella che cosa stai dicendo signore che se sei onesta e bella la tua onestà dovrebbe rifiutare di sentir parlare della tua bellezza la bellezza signore potrebbe avere relazione migliore che con l'onestà certo perché il potere della bellezza farà molto prima trasformare l'onestà in una puttana che non la forza dell'onestà a fare simile a sé la bellezza questo una volta era un paradosso ma ora è moneta corrente io ti ho amata un tempo se non altro me l'hai fatto credere e tu avresti fatto meglio a non credermi perché la virtù non può innestarsi sui nostri desideri fino al punto da farcene dimenticare il sapore non ti ho amata così sono state ingannate ancora di più chiuditi in un convento perché aprire un allevamento di peccatori io sono abbastanza onesto ma potrei accusarmi di tale cose che sarebbe stato meglio molto meglio se mia madre non mi avesse mai partorito io sono orgoglioso sono vendicativo ambizioso con più peccati ai miei ordini che pensieri dove versarli fantasia per immaginarli e tempo per commetterli che cosa ci stanno a fare delle persone come me striscianti fra cielo e terra siamo tutti canagli e non fidarti di nessuno vattene in convento dove è tuo padre? a casa signore chiudilo dentro a chiave capito? che non vada a fare il buffone all'aperto i miei rispetti mio Dio aiutalo tu e se ti sposi ti darò la mia maledizione si casta come il ghiaccio pura come la neve non sfuggirai alla calunnia chiuditi in un convento vai corri ti saluto o se proprio ci tieni sposati un imbecille perché un uomo intelligente lo capirebbe subito che lo fareste cornuto vai in convento vacci subito addio Dio mi potente guarisce e non atteggiarti io li conosco questi trucchi anche troppo Dio vi ha dato un viso e voi ve ne fate un altro mosse, mossette sculettamenti chiacchiere tutto con nomignoli graziosi solo per vendere l'ignoranza come ingenuità basta basta mi avete fatto diventare pazzo io dico che non ci saranno più matrimoni qua dentro quelli che sono già sposati che vivano tranne uno gli altri resteranno come sono che saccheggio c'è stato in quella mente soldato letterato gentiluomo aveva tutto lingua occhio spada la speranza è la rosa dello stato da mangiarlo con gli occhi tanto era specchio a tutti di stile l'eleganza fatta persona ed eccolo lì uno straccio e io la più infelice delle donne io che avevo la musica nel cuore che bevevo miele io qui a sentire i ragli di quell'anima a vedere questa nobile mente che dà il suono di campane perverse già soave picchiate senza scopo io qui a vedere un'immagine unica un modello di giovinezza in fiore sfigurato da un vento di diozia povera me che ho visto ciò che ho visto che vedo ciò che vedo l'amleto cecilia abramati diego pleuteri e stiamo arrivando al finale leonardo leonardo anche tu arrivi dalla scuola del teatro adesso prepari questi e dirigi questi bravissimi ragazzi e raccontici del tuo rapporto ma soprattutto il tuo rapporto con ovviamente il centro studi sì pensavo di parlare dell'amleto che ho fatto io è stato un disastro qua su questo palcoscenico infatti ogni volta che sento recitare l'amleto qua penso io avevo fatto delle cose orrende non per colpa del regista ma proprio per colpa mia e infatti prima o poi Filippo lo devo rifare perché ogni volta che lo sento mi sento addosso quella sensazione di imbarazzo le cose sono connesse nel senso che sono i due luoghi per me più importanti sono stati più importanti per il mio percorso e a un certo punto anche proprio della della mia vita da attore da regista nel senso che la scuola e il centro studi insieme mi hanno un po' emancipato da me stesso poco non tanto ancora sono rimasto un po' ingabbiato ma c'è sicuramente una grande possibilità che è quella che cerco di ricordare agli allievi ogni giorno che c'è la possibilità e cioè quella di potersi rapportare con una grande materia io credo che rapportarsi con la materia sia poi a un certo punto del percorso lo snodo nel senso che inizialmente uno inizia a recitare per un un atto forse egoico perché gli piaceva alzarsi sulla sedia per dire la poesia alle feste gli piace stare al centro e poi però a un certo punto devi decidere se diventare un uomo o una donna di teatro e per fare questo secondo me ti devi rapportare con la materia e quindi entrare al centro studio ogni volta è questo sentirsi una formica davanti a queste montagne però avere anche la spinta per poter andare avanti io credo che tutta questa materia tutto questo passato tutta questa tradizione come sempre non debba essere utilizzata per nascondersi dietro ma per essere utilizzata proprio come trampolino per andare avanti e io credo che ogni volta entrare al centro studi anche come hanno ricordato i miei colleghi grazie a queste persone straordinarie sia proprio questo ricordarsi della possibilità di andare avanti grazie alla materia è come per un giovane costruttore camminare in una via piena di palazzi bellissimi e dire ah adesso quasi 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 quello mi piacerebbe farlo uguale no quello non mi rappresenta quello vorrei abitarlo e quindi sarò sempre grato infatti mi facciamo molto piacere esserci stasera nonostante sia in prova come idee sono distrutto come potete vedere perché non è proprio una commedia ma ci volevo essere per ringraziarvi di persona perché è sempre importante emozionante e ci ricorda appunto come andare avanti guardarci alle spalle grazie grazie a te martedì fonderie limone alle 19.30 non mi ricordo direi di sì secondo me alle 20.45 a questo punto abbiamo ancora una clip l'ultima clip per lasciare poi la parola ad Anna che chiuderà in qualche modo la serata perché è il presente del centro studi questa clip è tratta da Pirandello sei personaggi con la regia di Valerio dello scorso anno perché qui comincia il cuore del nostro dramma signori la commedia comincia proprio da qua io dico se dal male può nascere una bella commedia allora l'importante signore è che in questa commedia si sappia che io ho agito sempre a fin di bere io ho sempre provveduto tua madre di tutto di tutto e più di tutto non regalo anche quando lei si era fatta un'altra famiglia perché si è fatta un'altra famiglia ancora io vi ho sempre provveduto di tutto fino a che poi quell'uomo non li ha portati lontano in un'altra città a mia insaputa dove era Valerio non lo so perché perché si era spaventato per il mio poverino delle tenerezze con la quale io guardavo sempre la sua nuova famiglia ma soprattutto me signore che ero piccola avevo le trecine lungo le spalle e le mutandine più lunghe della donna e signore me lo vedevo questo signore qua fuori dal portone della mia scuola veniva a vedere come crescevo sa signore questo deve aver insinuato un pensiero infame è perché è la verità non è la verità è un pensiero infame diteci una volta per tutte cosa è successo certo subito sì subito allora io mia moglie se n'era andata a vivere con quello là e io mi ero trovato solo in casa da solo e cominciai subito a sentire la malinconia del figlio quindi andai a prendermi il figlio dalla contadina anche per avere diciamo un po' di compagnia ma ma quale figlio quale figlio non mi parve nemmeno più mi guardava io mi disprezzo invece che con gratitudine mi offriva silenzio ostilità una grande rilettura di Pirandello tra l'altro con tutti i ragazzi della scuola coinvolti Dulcis in fundo Anna allora io sono molto emozionata nel dirvi che chiudiamo in bellezza la serata perché finalmente è online l'archivio di Eugenio Allegri che certamente un applauso allora non abbiamo bisogno di presentarlo perché a Torino Eugenio è un attore conosciutissimo regista pedagogo intellettuale è un caro amico volevo ringraziare Susanna Teodoro Silvana Allegri che sono in sala e anche Simona Musano sua storica collaboratrice e tutti coloro che hanno contribuito attraverso la raccolta di fondi che ha reso possibile la costituzione dell'archivio la sua inventariazione e catalogazione adesso l'archivio cartaceo è consultabile tutto presso il centro studi e abbiamo iniziato anche con l'aiuto di Promemoria c'è qui Gisella Riva dell'Agency Heritage Promemoria che gestisce la piattaforma dell'archivio del centro studi e la pagina dedicata a Eugenio Allegri ed è un archivio in fieri al momento potrete trovare le locandine tutte quante quelle che abbiamo locandine manifesti alcune foto uno solo spettacolo per il momento ci sta lavorando alla cremente Federica Mangano che è una giovane studentessa d'AMS che sta collaborando con noi con grande passione e che ringrazio e la particolarità di questo archivio è che sarà un archivio partecipato perché è possibile attraverso una funzione che è la buca delle lettere poter donare all'archivio o i materiali che i singoli insomma le persone possono conservare se si conservano ad esempio in cartaccio ci possono scrivere direi che la funzione i documenti conservati al centro studi sono stati ampiamente descritti io sono fortunata di lavorare in un posto meraviglioso per cui io tutte le mattine mi sveglio e sono felice di arrivare qua con dei colleghi meravigliosi ringrazio anche Davide Giovanni Netti e Pietro Crivellaro che per me è stato un maestro e voglio anche ricordare Loredana Gallarato che non c'è più ma che in questo momento voglio ricordarmela grazie grazie a te grazie 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 non non abbiamo previsto non c'è un can can non c'è una musica finale però voglio ringraziare il direttore il presidente del teatro stabile tutto il personale i maestranze i tecnici tutti e direi a questo punto prima gli allievi attori ormai attori venire qui in scena con me e prendervi un applauso via in proscenio e a questo punto se vi mettete sui due lati tutti i nostri ospiti straordinari venite qui come attori venite in proscenio un bellissimo inchino grazie a questa festa grazie ai 50 anni del centro studio del teatro stabile ci rivediamo per altri 50 anni buona serata grazie a tutti voi buonanotte viva il teatro